13 ricercatori del Neuromed fanno parte della rinomata lista World's Top 2% Scientist e rientrano cioè nel 2% dei migliori scienziati al mondo, un risultato che colloca l'Istituto di Ricerca di Pozzilli tra i più affermati enti scientifici del mondo. La lista sviluppata dall'Università di Stanford in California viene aggiornata ogni anno in base agli indicatori della qualità del lavoro dei ricercatori, ma tiene conto anche di Scopus, il database delle pubblicazioni scientifiche mondiali. Il Neuromed si è distinto nei principali campi della medicina moderna, neuroscienze, oncologia, medicina cardiovascolare, immunologia e nutrizione. Il Molise fa vedere che sa fare squadra anche grazie all'impulso che la regione dà alla ricerca, ha commentato Luigi Frati, direttore scientifico del Neuromed, ed è altrettanto importante che il riconoscimento sia andato a tutte le università con le quali Neuromed collabora, non solo quelle romane, ma anche l'Unimol. Essere riconosciuti a livello mondiale, ha aggiunto Giovanni De Gaetano, presidente del Neuromed, dimostra l'impegno con cui i ricercatori affrontano le sfide della medicina moderna e sottolinea l'efficacia delle linee di ricerca che contribuiscono al corpo collettivo della conoscenza scientifica.